Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo Io Giovanni vidi salire dall'Oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente e gridò a gran voce i quattro angeli ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare. Non finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio e udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo. 144.000 segnati provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dopo queste cose vidi ecco una moltitudine immensa che nessuno poteva contare di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide e tenevano rami di palma nelle loro mani e gridavano a gran voce la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello e tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse questi che sono vestiti di bianco chi sono e da dove vengono? Gli risposi signore mio tu lo sai e lui sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, signore. Il signore è la terra e quanto contiene, il mondo, con i suoi abitanti. È lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, signore. Chi potrà salire il monte del signore, chi potrà stare nel suo luogo santo, chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, signore. Egli otterrà benedizione dal signore, giustizia da Dio e sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, signore. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio. E lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce. Perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio. Ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui. Perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui, purifica se stesso. Come Egli è puro. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte. Si pose a sedere. E si avvicinarono a Lui i Suoi discepoli. Si mise a parlare. E insegnava loro dicendo Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi, per causa mia. Rallegratevi, ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Grazie a tutti.